Lei è Becky e il suo idolo è anche la sua migliore amica, Sam. Sei una ragazza davvero straordinaria. In effetti è così. Farebbe davvero di tutto per lei. Ma per entrare alla Kirin dovrà trovare il coraggio per esibirsi. Soltanto un minuto. E superare le sue paure. Perché per diventare una vera star, il talento non basta. 1287, Becky. Sono io. Riuscirà Becky a realizzare il suo sogno? Scoprilo con Dream Eye. A settembre, solo su Super.